Ciao ragazzi, allora, Outfit of the Day, sto andando a lavoro perché sono un pochino di corsa. Stamattina mi sono svegliata con un tempo pain spessimo, nonostante sia il 4 di luglio, sono più o meno le 8 del mattino e fuori ci saranno tipo 12 gradi. Ha piovuto tutta la notte, sta continuando un po' più a viginare e fa veramente, veramente freddo. Quindi ovviamente, se bene appunto stia andando in ufficio, i miei capelli stanno impazzendo, ho dovuto vestirmi parecchio anche perché, vi ripeto, il mio ufficio è abbastanza fresco perché c'è sempre l'aria condizionata. Come accessori ho sempre i soliti, quindi i miei soliti bracciali, il mio solito orologio della Casio. Di qua ho questo bracciale che avrete già visto in un altro video, che è quello di Maracuja. Vi lascio i dettagli nel box informazioni e vabbè il mio solito elastico. E come orecchini ho questi qua di Ori Inspired. Ho indossato questa blusa che mi è arrivata pochi giorni fa e che mi piace tantissimo. Vi lascio tutti i link nel box informazioni dove potete trovare questa blusa. Sapete il mio amore per i Pua e quindi insomma quando ho visto questa blusa me ne sono innamorata. Mi piace tantissimo perché appunto alla lenteria sul sito veniva venduta come un vestito, ma per ovvie ragioni vedete che io come vestito non lo posso indossare. Mi piace moltissimo questa fantasia, panna con i Pua neri. Ha queste maniche, una via di mezzo tra maniche corte e maniche a tre quarti, un po' svolazzanti. E giro collo e sul fondo ha tipo delle balze, no delle pieghette molto carine. Visto che io tendo sempre a prendere una media come taglia, nonostante io sia una S. Perché generalmente questi siti cinesi sono sempre molto piccolo. Però talvolta invece mi arrivano le cose grandi come in questo caso. In questo caso mi sarebbe andata benissimo una S e anche una XS. Però ho preso una M e quindi per diciamo stringere un po' il punto vita visto che rimaneva un po' largo. Ho messo questa fuschacca nera che ho comprato veramente tantissimi anni fa da Zara. Comunque è una semplicissima fuschacca di quelle che si legano che insomma veramente potete trovare ovunque. Sotto ho messo i miei soliti jeans. Ossia questi qua della cocca. Insomma quelli che avete già visto perché devo dire che ai miei ci trovo veramente veramente bene. Porterò con me un golfino nero perché veramente io non ne so se abitate al sud o magari in altre parti d'Italia. Probabilmente fortunate voi vi farà caldo. Ci ho sentito altre ragazze che fanno i video. Ah qua ci sono 37 gradi. Beate voi perché qua veramente fa freddissimo. Fa proprio freddo. Cioè vabbè io sono freddolosa. Però credetemi che fa freddo. Due scarpe ho messo le mie ballerine nere. Queste qua che avevo comprato a Roma lo scorso anno. Che hanno il fiocchettino con le borchette dorate. E quindi spero che questo outfit vi sia piaciuto. Ora scappo al lavoro perché sennò perdo il pullman e arrivo in ritardo. Un bacione. Ciao!